Quattro partite all'epilogo della stagione regolare, due in casa e due in trasferta. Teramo a 4-39 con quattro lunghezze da gestire dalla zona che scotta. L'avversario di domenica da affrontare in trasferta si chiama Pordenone, la capolista, che con un successo e qualche risultato favorevole potrebbe festeggiare in anticipo la Serie B. Il Teramo insomma dovrà tirare fuori gli artigli per tornare in Abruzzo con un risultato positivo. Se così sarà, la salvezza diretta si avvicinerebbe tantissimo, anche se... fare calcoli spesso porta fuori strada, quindi dobbiamo cercare di rimanere compatti, di rimanere sul pezzo come si dice e di affrontare una gara di domenica e cercare di fare punti. E poi dopo tireremo le somme di parete in partita perché questo campionato è veramente un campionato bello e difficile. La spinta ce la deve far dare queste ultime prestazioni, secondo me, perché comunque abbiamo ritrovato uno spirito importante e quindi dobbiamo continuare e cercare di migliorare i nostri difetti, ma lo spirito è quello che si è visto domenica. Deve essere uno spirito battagliero perché una squadra che si deve salvare non può fare a meno di questo spirito. Io spero vivamente che la squadra rimanga così compatta come è stata in queste partite.